Una giornata di sport, teatro e cultura per ricordare Emanuele Goddi, scomparso prematuramente un anno fa. Un ragazzo pieno di vita che col supporto della famiglia aveva fatto dei suoi problemi un punto di forza, diventando un punto di riferimento e un esempio di inclusione sociale. Domenica a Nuoro, per ricordare Emanuele, sono in programma due grandi manifestazioni che ricadono sotto un unico evento, la giornata dell'inclusione sociale dedicata a Emanuele Goddi. Una manifestazione voluta dalla polisportiva Asterix, il suo dalizio fondato 12 anni fa per dare la possibilità ai giovani diversamente abili di praticare lo sport. La mattina, a partire dalle 9.30, nella piscina comunale di Via Lazio, si terranno i campionati regionali di nuoto organizzati dalla FISD, la Federazione delle Disabilità Fisiche Intellettive. 11 le società partecipanti, provenienti da tutta l'isola, e 70 gli atleti in vasca. La competizione assegna i titoli regionali e i nuotatori saranno divisi in tre categorie, promozionale, persone con la sindrome di Down e avanzati. La sera invece nel Teatro Eliseo ci sarà un happening teatrale musicale dal significativo titolo, Dieci anni di gioia. Qui alcune tra le più rinomate compagnie teatrali sarde, a partire da Casa Teatro 2007 di Nuoro, diretta da Alessandro Arrabito e che annoverava tra i suoi attori anche Emanuele, ricorderanno la sua figura mettendo in scena alcuni spettacoli. Verranno anche proiettati alcuni video con le performance artistiche di Emanuele. Il palisesto della manifestazione è stato illustrato stamattina a Nuoro nel corso di una conferenza stampa. All'incontro sono intervenuti Sandro Floris, presidente provinciale del CONI, che patrocina la manifestazione, Ettore Goddi, padre di Emanuele e presidente della società Asterix. Il presidente Floris ha sottolineato la grande importanza non solo sportiva, ma anche civile della giornata che vuole ricordare Emanuele. Un ragazzo che trasmetteva gioia di vivere e che aveva trovato nello sport una sua dimensione di vita. Un esempio di inclusione e di partecipazione che deve essere seguito da tutti. Tore Goddi ha ricordato con emozione Emanuele e invitato tutti a cancellare il termine disabili per individuare i ragazzi che hanno qualche difficoltà, perché, ha detto Goddi, basta assistere alle competizioni di nuoto, all'impegno che mettono nello sport per cambiare immediatamente opinione.